ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi perdonate l'inquadratura un po' strana vedete anche tipo me però il massimo che riesca a fare dall'altro non è il mio forte oggi finalmente dopo tantissimo tempo più o meno un anno facciamo un altro unboxing e lo facciamo di due pacchi questo e questo che ho comprato e questo che ho ricevuto questo sbaglio da già i prodotti quindi lo faccio vedere solo perché vi voglio parlare del come l'ho comprato e dell'offerta pazzesca e perché fa proprio di besuono ok però visto che sono molto curiosa di vedere il contenuto in questa scatola partiamo decisamente partiamo decisamente da questa ok allora questa scatola vi dico già da chi mi è stata mandata cioè da di richioba non so se qualcuno di voi la conosce però insomma è una beauty youtuber, beauty influencer è anche lei è una makeup artist insegnante make up è tra le influencer che producono cosmetici per una marca che si chiama Cosmify e questo è il terzo pacco che mi è arrivato all'azienda i primi due sono acquisti vabbè adesso me ne parlo comunque vedo un sacco allora appunto io avevo ordinato la prima volta una portrait che tra palettes ce l'ho qui che sono queste palettine che avete già visto sul mio canale questa qui e un illuminante di basic gaia e la palette viso mi era piaciuta così tanto che ne avevo comprata poi una seconda mi sono fatta le unghie blu perché mi sono fatta le unghie blu ci rendo prestissimo il video sul canto e quindi blu quello non è freddo è fresco ok andiamo ad aprire e qui dentro c'è della carta da imballaggio a cuori e poi della carta da imballaggio normale allora qui bisogna togliere un po' di roba sennò non ci sto però però voglio fare un po' di suoni 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 l'unica cosa che mi dispiace è che vendendo solo online loro non possano evitare la plastica mi piacerebbe insomma che usassero un material alternativo però su tutto il resto mi sono sempre trovata bene e soprattutto la spedizione è velocissima però d'altro canto prendiamo il lato positivo qua non sono troppo bello allora io andrei a togliere tutto e poi scartare cosa ne dite? non so se l'avrete notato ma ha acceso un po' le luci ha acceso la light box si ma così non sentiva niente il tuo suoni partiamo qui troviamo quattro rossetti, anzi sono stupendi, ve lo dico, io ve lo dico i bucolici, che sono i rossetti di richioba, vi faccio lo zoom, sono bellissimi, qui c'è scritte bucolici e qui c'è scritte richioba, sono veramente splendidi e aprendo il rossettino così, e questo è il colore 06 idia, apriamolo, ho peccato, oddio sono opacissimi, almeno questa è l'assoluto prima, andiamo avanti allo spacchettamento scusate, lustimi due sono nickel tested e vegan ok? soprattutto per quanto, ok vegano però, per quanto riguarda la nickel tested è importantissimo per i rossetti, perchè fondamentalmente lo rimangiamo e per me è super importante e non tutti lo sono ok? andiamo a spacchettare anche il resto io queste le adoro ragazzi queste sono le altre due sono bellissime, io ho già quelle intermedie, quindi questa e quella oro, questa qui e questa qui la faccio vedere l'ho aperta, è bellissima, vi giuro poi il blush è qualcosa di pazzesco questa ce l'ho a casa e queste due le apriamo perchè non ce le ho, io sono troppo contenta questa questa è penso la numero uno, guardiamo, senza titolo numero quattro ed è quella per pelli più chiare queste per pelli più chiarissime ed è l'unica un pochino fredda diciamo così di terre abbiamo Oscar e London e poi abbiamo Victoria e Bronti come illuminante e blush Victoria perchè questa penso sia epoca vittoriana, io sono ossessionata con la serie tv questa penso sia ok la uno ed è penso ancora greco romana oddio è bellissima, mamma mia, no ragazzi è bellissima allora, mamma mia, è bellissima, giuro sono tipo, allora questo è l'illuminante lei non ha mai voluto illuminanti super tipo sbam, brev, ma è bellissima queste sono le tue terre e questo è il blush che oggi è bellissima è un blush pazzesco non vedo l'ora di usarlo e queste sono non so se è riuscito a notare la bellezza sinceramente di questo pack ma è bellissimo poi è curato in una maniera andiamo a guardarli tutti e sì e solo dei rossetti che ho intenzione di usare parli su oggi di quelli più sulle mie corde quelli un po' più strani che ho deciso che appunto magari li darò via perché soprattutto per un prodotto di qualità che so già essere questo qui non mi va di sprecare il prodotto quindi usarlo magari una volta o due pasta ma mi fa che qualcuno lo usi tanto e sì sono per dare vita come si meritano a questi prodotti quindi numero 10 io ve li metto così comunque questo è un rosso bellissimo no un profumo un sacco frizzante buonissimo ok questo è quello che io ho fatto vedere prima il numero 6 idia no i profumi sono pazzeschi chianti non penso indossero molto quindi questo è bellissimo adoro calypso allora questo era il colore che più mi ispira di tutti penso anche questo non nelle mie corde Rodia mamma ragazzi che profumi oddio che questo è bellissimo Elettra oddio questo rosso doro 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 un altro di quelli che mi ispirava tanto 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 bellissimo che bello anche questo eco questi sono tutti rossettini e io non vedo l'ora 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 di provarli quindi grazie erica davvero io sono tipo wow stupidissimo quindi wow adesso stoppo il video e vado a provarmeli praticamente adoro passiamo al secondo unboxing ok secondo pacchettino abbiamo questo che ho comprato l'altro giorno all'aeroporto di Vienna e volevo farvelo vedere perché adesso vi spiego questo set da crema 75 ml spray idratante e sierocchi l'ho pagato in tutto 35 euro quindi dividendo per tre sono praticamente 12 12 12 12 neanche che è pochissimo contate che prezzo di mercato la crema è 35 e quindi se andate in aeroporto prima di fare il check in scusatemi prima di fare i controlli guardate se al duty free c'è questo set perché è super conveniente io andavo attorno a questa crema da tantissimo tempo perché mi sembra super estivo come set clic 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 ok il primo prodottino è appunto questo moisture sauce surgery spray e questo secondo me è da portare in borsetta top, bellissimo e sono 30 ml questo invece è un siro d'occhi con il roll on è molto liquido appunto è un siro e infine la crema e contate che secondo me questo è un buon prezzo perché sono 75 ml di crema di solito tutte le creme di queste marche un po' high sono 50 ml e ha il coperchietto protettivo e non so se lo vedete ma è super gelosa guardate tipo proprio budino sembra super fresca lo è oddio è una consistenza pazzesca stranissima e niente non vedo l'ora di provarlo mi dispiace se questo video è stato un po' pieno di tagli ma non è facile e penso sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi 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 una buona buona buon ecco godemnate buonanotte buonanotte pasticcini buonanotte 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 che li spero